In seguito alle dimissioni del consigliere Giovanni Rullo ad arco dalla Commissione Consigliare sul Piano Urbano della Mobilità, è giunta una nota da parte del Presidente della Commissione stessa, il Vice Sindaco Bresciani. Il Vice Sindaco scrive che non ha nulla da obiettare sul giudizio, ma vuole ricordare di cosa si occupa la Commissione e cosa ha prodotto. È nata nel 2014 per affrontare in un'ottica di condivisione e di confronto con tutte le forze politiche presenti in consiglio il tema della viabilità del centro cittadino, in particolare il progettato senso unico di Via della Cinta e il rondò di Via Roma. Si tratta di una Commissione consultiva, senza gettone di presenza, la cui attività si svolge in modo informale. Alla fine la Giunta ha scelto, com'è nella sua responsabilità, ma ora, continua il Vice Sindaco Bresciani, siamo arrivati all'appalto e dunque all'imminenza dell'inizio dei lavori. Solo dopo il completamento di questa fase, come deciso fin dall'inizio sulla scorta di precise valutazioni tecniche, la Commissione passerà ad occuparsi dell'ipotesi di una zona a traffico limitato su una delle corsie di Via della Cinta. Ad ogni buon conto ringrazio, dice il Vice Sindaco Bresciani, Giovanni Rullo per il lavoro svolto fin qui e per i risultati ottenuti per il tempo dedicato e l'impegno profuso e coego l'occasione per fare altrettanto a tutti i membri della Commissione. Non dimentico, dice, che si tratta della seconda defezione dopo quella del Consigliere Andrea Ravagni. Per questo credo sia opportuno valutare assieme al Consiglio Comunale se questa Commissione vada mantenuta o abbandonata.